Ciao appassionati del Milan, ho una notizia esclusiva e molto interessante da condividere con voi oggi. Sembra che il nostro club stia tenendo d'occhio un talento versatile che potrebbe ulteriormente rafforzare la nostra squadra. Derrick Kohn, del Galatasaray, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Derrick Kohn, che gioca come terzino sinistro, difensore centrale e, se necessario, centrocampista, è il bersaglio per coprire la posizione di vice di Tio Hernandez, questo giovane di origine ganese, nato nel 1999 in Germania, ha attirato l'attenzione non solo per la sua versatilità, ma anche per il suo potenziale di adattarsi perfettamente al nostro stile di gioco. Il Galatasaray valuta con intorno ai 6 milioni di euro, ma non sembra intenzionato a venderlo facilmente. Al contrario, sono in corso trattative avanzate per rinnovare il suo contratto, rendendo ancora più difficile il compito di portarlo a Milano. Avere Derrick Kohn sarebbe un grande rinforzo per il Milan, aggiungendo profondità e qualità alla nostra rosa. La sua capacità di giocare in diverse posizioni potrebbe essere fondamentale durante una stagione impegnativa come quella che ci aspetta. E ora voglio sapere la vostra opinione, tifosi. Cosa ne pensate della possibilità che Derrick Kohn si unisca al nostro club? Potrebbe essere la pedina che manca per rinforzare ulteriormente la nostra squadra? Commentate qui sotto e discutiamo insieme su questo possibile acquisto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per ricevere tutti gli aggiornamenti e rimanete sintonizzati per tutte le novità del Milan. Grazie per l'attenzione e alla prossima!